Ciao a tutti e benvenuti a questo video corso di modellazione architettonica in 3D Studio Max tenuto da InRender Io sono Max e sarò il vostro tutor durante questo breve percorso durante il quale vi darò alcuni consigli per modellare delle parti di questa villa si chiama Villa Altona e potete trovare su internet tutto il materiale necessario e affronteremo alcune delle problematiche che si incontrano durante la modellazione di oggetti architettonici partendo dalle pareti faremo i solai, la scala a chiocciola e gli infissi su questo sito ArcDaily potete trovare tutte le piante comunque non preoccupatevi perché verranno anche fornite all'interno della cartella di progetto iniziamo subito con la prima lezione dove andremo a impostare le spline di costruzione delle nostre pareti perimetrali